Oggi parleremo dei migliori siti per freelance. Se stai cercando una piattaforma per offrire i tuoi servizi freelance o per trovare talenti, stai nel posto giusto. Fiverr è una piattaforma globale molto popolare che permette ai freelance di offrire i loro servizi in vari campi, come design, scrittura, traduzione e molto altro. La prima cosa che voglio sottolineare è la visibilità che Fiverr è in grado di offrire. Con milioni di visitatori mensili, Fiverr ti mette di fronte a un vasto pubblico gratuitamente. Questo significa che i clienti possono trovarti facilmente aumentando le tue opportunità di lavoro. La seconda cosa fantastica di Fiverr è la sua semplicità d'uso. Creare un profilo e pubblicare i tuoi servizi è veramente semplice. Puoi impostare il tuo GID che sarebbero i servizi che mette a disposizione ai tuoi potenziali clienti, come ad esempio la realizzazione di articoli ed in pochi passaggi, Fiverr ti guiderà attraverso ogni fase. Per quanto riguarda le commissioni, Fiverr addebita una commissione del 20% su ogni transazione. Questo copre tutto l'operazione di marketing, pagamento e gestione dei clienti per te. Upwork è un'altra piattaforma molto popolare tra i freelance, con un focus più orientato verso progetti in lunga durata e contratti a tempo. Anche qui la visibilità è un punto forte, ha meno di utenti attivi e offre una vasta gamma di progetti in vari settori. Tuttavia la concorrenza può essere alta, quindi l'importante è avere un bel profilo curato. La semplicità d'uso di Upwork è un altro aspetto positivo. La trazione di un profilo dettagliato e l'offerta dei propri servizi sono processi tutti molto semplici, anzi potrebbe richiedere un po' più di tempo rispetto a Fiverr. Per quanto riguarda le commissioni, Upwork utilizza un sistema a scaglioni. Inizialmente ti verrà debitata una commissione del 20% sui primi 500 dollari guadagnati con un singolo cliente. Questa percentuale scende al 10% per guadagni tra i 500 dollari e i 10.000 dollari e al 5% per guadagni superiore ai 10.000 dollari. Quindi rispetto a Fiverr le commissioni si abbassano pian piano che aumentano i tuoi guadagni. Riassumendo, Fiverr e Upwork sono entrambe ottime piattaforme per freelance, ma con differenze chiave. Fiverr è ideale per chi cerca progetti veloci e a breve termine con una piattaforma estremamente semplice da usare. Mentre Upwork è perfetta per progetti più lunghi e contratti a tempo con un sistema di commissioni a scaglioni. Però a mio parere la migliore soprattutto se vuole vendere servizi in Italia è Fiverr. Se sei interessato a provare una di queste piattaforme ti lascio dei link in descrizione per iscriverti e iniziare subito. Se questo video ti è piaciuto non dimenticare di mettere un like e di iscriverti al canale per altri contenuti simili. Iscriviti al canale